buongiorno a tutti amici eccomi qua mi sono creata anch'io il licoli io sono come sapete un'affezionata della pasta madre però il licoli non l'avevo ancora provato ho preso una piccola parte della mia cucciola e l'ho trasformata in licoli ed eccolo pronto per impastare adesso voglio fare una prova farò un pane con il licoli bene quello che non ho usato lo rimetto in frigo ne ho tolto una piccola parte come sapete il licoli può stare anche un mese senza essere rinfrescato questo è il vantaggio uno dei vantaggi questo è un po pochino quindi lo rinfresco lo peso sono 40 grammi e vado a mettere non devo mettere lo stesso peso metterò 20 grammi di acqua e 20 di farina così diciamo che lo allungo per arrivare 80 grammi e poi ci vorrà un'ora due ore perché si ricreano le bollicine ed è pronto per panificare bene bene una giratina con il cucchiaio ed è pronto lo copro per non farlo seccare e lo lascio nel frattempo mi preparo le farine eccole qua ho messo un mix di farine farina zero e farina di tipo 2 ne ho messa a 250 di tipo 2 100 di integrale e 150 di zero sono arrivata a 500 grammi questo è il licoli già sta formando le bollicine questa è l'acqua sono 360 all'incirca ma non credo che lo userò tutta vediamo poi l'assorbimento di queste farine che hanno un assorbimento molto più alto di acqua ok il licoli vedete è quasi pronto però lo lascio ancora nel frattempo mi faccio l'autolisi delle farine vediamo che ne esce fuori è la prima volta che lo uso vediamo bene metto nella ciotola della planetaria le farine ok le miscelo le miscelo un pochino e poi vado a mettere l'acqua ma non tutte insieme le metterò un pochino per volta così passa il tempo e poi lascio sospendo un pochino metto un'altra pochina di acqua deve passare praticamente una mezz'oretta per far partire l'autolisi eccolo lo tengo un pochino l'acqua non l'ho messa tutta poi ne metterò man mano che faccio incordare metterò altra acqua ecco qua il nostro licoli ce l'ho verso dentro ok non sprechiamo niente e andiamo a far girare con la planetaria metto anche il sale e mezzo cucchiaio e giriamo l'acqua che è rimasta la mettiamo un po' per volta controlliamo vediamo ecco adesso è ancora un po' duretto quindi a lungo metto ancora acqua questo perché non sto facendo una ricetta specifica sto facendo così diciamo come si dice a occhio a modo mio adesso metto altra acqua è quasi finita non la metto tutta casomai siamo intorno ai 350 quindi il 70% di idratazione è abbastanza buono e giro ancora faccio incordare un pochino una diecina di minuti si vedete com'è morbido l'impasto però man mano poi incorda faccio girare un altro po' ok stacco anche ogni tanto l'impasto che rimane sotto e poi faccio girare ancora ecco qua l'impasto è pronto lo lascio un attimino che si rilassa un pochetto dentro la ciotola dieci minuti e poi preparo una ciotola oliata e ce lo verso dentro ecco qua una volta versato l'impasto farò delle pieghe in ciotola le farò per due volte con l'intervallo di mezz'ora intanto volevo dirvi volevo rispondere ad una mia iscritta che mi parlava mentre faceva il pane ho incordato ho fatto il velo perfetto io sinceramente non guardo il velo quando si fa il pane non è che stiamo facendo un panettone potrei anche sbagliare non lo so i grandi maestri potrebbero riprendermi però non guardo il velo perché anche se non incorda bene con la planetaria poi con le pieghe lo sentiamo poi con le mani quando è giunto al punto giusto man mano che facciamo le pieghe finisce di incordare se andiamo a vedere adesso vediamo un attimo si è fatto questo velo ma è soltanto per accontentare questa amica iscritta qui sto facendo un altro giro di pieghe ancora vedete che man mano l'impasto prende corpo la maglia glutinica è ben sviluppata è molto idratato questo vediamo questo velo così accontentiamo questa amica ecco qua vedete che il velo se vogliamo c'è però mai controllato il velo mentre faccio il pane con il panettone si pandoro e altre cose ma con il pane no bene l'impasto l'ho tenuto all'incirca 3 ore 3 ore e mezza eccolo qua sta facendo le bolle l'impasto è stato fatto in mattinata ora è pomeriggio vado a lavorarlo perché voglio infornare questa sera dopo le 7 che c'è la fascia bassa così consumiamo anche meno corrente lo verso sul piano di lavoro infarinato perché è molto molto morbido molto idratato bene faccio ancora due giri di pieghe pieghe a 3 figillo ripiego ok così lievito ancora un pochino questo era un impasto che andava benissimo una volta fatto con il passaggio in frigo però a me stasera serve il pane quindi ho fatto tutto in giornata però se volete una volta messo l'impasto in ciotola durante la prima lievitazione potete metterlo tranquillamente in frigo e riprenderlo poi il mattino dopo allora qui faccio un altro giro di pieghe sempre con l'intervallo di mezz'ora e poi vado direttamente a formare la pagnotina ma senza ripiegarla perché è molto morbida la vedete è appiccicoso e quindi pirlo soltanto un pochino la rotondo un po' e metto l'impasto direttamente nel cestino ok ho infarinato il telo e io lo metto così girato con la chiusura in sopra si è un po' spadasciato però poi riprende però voi fate come volete se volete mettere la carta forno in modo che poi lo mettete direttamente sulla refrattaria o sulla teglia potete farlo qui ognuno usa il suo metodo io sinceramente con la pietra refrattaria non mi trovo anche perché mio marito reclama per la corrente perché la pietra va riscaldata almeno un'ora poi un'ora di cottura così abbiamo due ore mi sembra un po' eccessivo oppure devo cambiare forno devo farmi un forno di quelli classe A che consumano meno bene dopo un paio d'ore l'impasto è così ha lievitato subito calcolate che siamo ottobre le temperature sono ancora alte un caldo umido quindi la lievitazione cambia molto non torna su vedete torna su lentamente quindi è ora di infornare il mio forno è già a 2,40 a temperatura ora ribalto delicatamente il cestino metto la teglia sul cestino e giro così piano piano è molto morbido quindi il taglio lo farò farò un taglio semplice senza star lì ad impazzire a far disegnini tanto per farlo anzi questo si potrebbe infornare anche senza tagli perché è talmente morbido la cottura si qui ci vorranno all'incirca 40-45 minuti perché è piccolina la fagnottina quindi i primi 20 minuti regolatevi i primi 20 minuti a temperatura a 2,40 poi a 2,20 poi quando è quasi cotto mettete a spiffero 10 anche 15 minuti vedete si sta già gonfiando meno male perché avevo paura con questo licoli invece no guardate è bello gonfio bene finisco di cuocere ed ecco qua il mio pane con licoli sì direi che sono soddisfatta poi vediamo però la fetta perché da fuori insomma il taglio si vabbè avete visto ho fatto velocemente doveva incidere un pochino di più ma era talmente morbido che non si poteva è bellissimo anche il taglio naturalmente ho tagliato da freddo o quasi come al solito non resisto io direi che è molto bello il profumo è anche buono perché ho usato delle ottime farine ecco qua le fette ci sono gli alveoli sì era molto idratato quindi eccolo qua molto bello bene diciamo che il mio licoli funziona e quindi lo userò di nuovo per seguire altre ricette ciao a tutti amici vi ringrazio della visione ciao ciao